Gradara Ludens, come sappiamo, non era attivo come evento da una ventina d'anni, ma in questi vent'anni Gradara Innova ha mantenuto sempre accesa la fiammella della didattica ludica all'interno di Gradara perché il core business di Gradara Innova è incentrato sulle gite scolastiche con tutte le scuole d'Italia e progetti ludico-didattici in cui i visitatori che affollano le vie di Gradara in tutti i periodi tipici delle gite scolastiche, quindi primavera-autunno, possono vivere un'esperienza didattica all'interno del castello di Gradara ma giocando, quindi imparando, divertendosi, che è un po' il fulcro anche del Gradara Ludens appunto. Vent'anni fa davamo molto spazio al gioco di ruolo, dal vivo in particolare e si ospitavano delle cose che sembravano più da carbonari, più da nerd e invece ecco, in questi vent'anni credo che la cosa più bella è vedere che quei nerd sono cresciuti e anche quelle cose che facevamo ormai sono diventate importanti per intere generazioni per cui Dungeons & Dragons o Magic non sono più soltanto quella cosa che bisogna far di nascosto ma sono diventate una parte importante di quello che è stato un percorso educativo, arricchente, ricco per molte persone di più generazioni. Non siamo soltanto cresciuti e invecchiati noi che giocavamo vent'anni fa è cresciuto il mondo del gioco perché offre cose ancora più stimolanti ed è cresciuto davvero, per esempio il mondo del gioco italiano in questi vent'anni ha fatto dei passi avanti formidabili abbiamo ormai circa un centinaio di autori pubblicati di giochi da tavolo con una ottima ricezione anche all'estero è un segnale di un intero settore che sta crescendo con non soltanto il gioco da tavolo ma tutte le forme del gioco dal modellismo al gioco d'animazione, al circo, alla giocoleria tutte cose che cerchiamo di raccontare, di presentare anche in questo festival. Il nostro borgo si è di nuovo dopo vent'anni di letargo, ricolorato e di tanti momenti, di tanti angoli di gioco nei quali bambini, adulti, genitori si sono proprio scontrati, confrontati, sfidati e c'è appunto a volte, ti accorgi che anche proprio il bambino stesso ha vinto magari sul genitore quindi è proprio bello, ma anche bello questo legame che c'è stato giochi di tutti i tipi, adulti che tra di loro poi si incontrano e davanti al gioco veramente si sentono, riescono a stare a proprio agio e non si preoccupano neanche del fatto che c'è quella sana competizione. Qui nel festival abbiamo qualche anteprima di giochi ma soprattutto abbiamo quest'altra cosa fantastica che è l'idea G che è l'incontro degli ideatori di giochi per cui vediamo anche, intravediamo i giochi che sono adesso in progettazione in questa fase delicata e si intravede già qualcosa di diverso.